E' stata rapita una volontaria italiana in Kenya. A 23 anni lavora per Africa Milele Onlus. Il rapimento è avvenuto a Chakama, nella regione di Chilifi. Nell'attacco, di cui ancora non si conoscono i motivi né gli autori, sono state ferite altre 5 persone, secondo la polizia locale. I primi sospettati sono il gruppo di islamisti Ashabab, che hanno base in Somalia. Sono anni che questo gruppo terrorizza il paese da quando il Kenya ha mandato le truppe in Somalia. Grazie.